Sono ore calde in casa Juventus nonostante la sosta per le nazionali. Infatti, diversi calciatori sono rimasti alla continassa per aumentare i carichi ed entrare in condizione il prima possibile. Una volta tornata la Serie A, il gruppo bianconero dovrà fare i conti con un grande tour de Force che aprirà le porte anche alla nuova Champions League. A tal proposito, tutti gli uomini dovranno essere nelle condizioni migliori per fare la differenza. Cia Giumotta lo sa, motivo per il quale starebbe lavorando con diversi protagonisti. Tra questi c'era anche Francisco Conceicao. Va usato il passato perché il portoghese non proseguirà gli allenamenti con i compagni. Infatti, durante la seduta di ieri, ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo nelle prossime settimane. Stamane, sono emersi nuovi dettagli sull'entità del problema dopo aver svolto gli accertamenti medici. La Juventus perde Francisco Conceicao per infortunio. Il neoacquisto bianconero è costretto al forfè dopo soli 45 minuti giocati contro la Roma. Il figlio d'arte ha accusato un problema di natura muscolare durante la seduta d'allenamento andata in scena ieri. Le sensazioni non sono molto positive, con il portoghese che dovrebbe restare ai box per diverse settimane. Ecco il comunicato ufficiale della Juventus che espone i risultati degli esami a cui il portoghese si è sottoposto oggi. Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli, peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra dieci giorni.